Sulla linea della fine dell'aria, attenzione ad Alcini che prova il destro e il tiro ed è subito il vantaggio del Fitness Club 50 Solo due minuti di gioco e Alcini su calcio di punizione colpisce, siamo 1-0 Poi non si comprendono quegli attaccanti, però alla fine finisce nei piedi del Capitano che prova il tiro Ed è il 2-0, una golla straordinaria del Capitano, il numero 3, Trevisani 4 minuti di gioco e 2-0 per il Fitness Club 50 Ovvero Peifelman, ma sarà probabilmente Priolo a tentare la battuta Calcio di punizione da parte di Priolo, il tiro del gol Anzi il gol è stato segnato dalla numero 15, Salvetta Era stato lui a battere il calcio di punizione, 2-1, 6 minuti di gioco e partita spettacolare Colui che ha segnato il calcio di punizione vincente per il 2-1 Salvetta, balle in mezzo, colpo di tacco E straordinario gol, colpo di tacco per il 2-2 Il 2-2 è stato segnato da Peifelman Vedremo quale sarà la decisione di Alcini, dovrebbe tirare da questa posizione Parte con destro Alcini il tiro e la grandissima risposta da parte del portiere dell'Atletico Fiumicino Attenzione al numero 2, Palmieri, cerca in mezzo Alcini Che prova! C'è un calcio di rigore, dice l'arbitro C'è stato un calcio di rigore fischiato dall'arbitro Fischia l'arbitro Parte Alcini il tiro e spiazza il portiere 3-2 per il Fitness Club 50 Doppietta personale per Alcini Zullo riceve ancora palla col tacco Può dare sulla destra Dove avanza la Fitness Club 50 Palla in mezzo per Zullo C'è il 4-2 4-2 di Zullo Dei giocatori nel rosso-nero Attenzione adesso Sulla destra avanza il numero 2 C'è un tiro C'è un tiro C'è il gol del 5-2 del numero 2 Palmieri ha segnato Mattia Palmieri Attenzione sulla destra Una delle ultime azioni Il Fitness Club 50 C'è un velo da parte di Loreto Per l'inserimento di Ventre Che vince un riparo Salta l'avversario Palla dentro E la gol di Di Loreto Si chiude qui il match 6-2 Il risultato finale L'ultimo gol segnato da Di Loreto C'è una grande squadra L'ho capito per l'ennesima volta Questa sera Di avere un gruppo di ragazzi Fantastici Cambiamo uomini in campo Cambiano le partite Incontriamo avversari differenti Ma il risultato è sempre quello C'è una squadra che dà tutto Dall'inizio alla fine Anche con un vantaggio notevole Continuano a correre E a volere sovrastare sempre Sull'avversario E questa è una cosa che mi rende Partitorialmente orgoglioso Non mollano un centimetro Gli avversari Credo che sia proprio questo Il segreto dei nostri successi Loro sono una squadra Ben attrezzata Ma anche noi Anche se abbiamo avuto Delle mancanze Delle assenti importanti Ragazzi infortunati Eccetera Però Noi giochiamo uguale Se riusciamo a andare A fare i playoff Ben venga Però le partite Le giochiamo Non le rinunciamo mai